Dopo il nome c'è anche la data di quando il commissario straordinario di Agrigento si insiederà all'ente comune. Lunedì prossimo, 28 luglio, Luciana Giammanco prenderà ufficialmente le redini del comune della Valle dei Templi. La 53enne è dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale dell'assessorato alle autonomie locali della regione Sicilia, a nominarla il presidente della regione, Rosario Crocetta. Giammanco è consapevole di trovare delle situazioni di difficoltà, ma si dice pronta ad affrontarle. Intanto, lunedì 4 agosto, è in programma alle ore 18 una pubblica assise cittadina. Primo punto all'ordine del giorno la nomina del nuovo presidente del Consiglio, dopo le dimissioni di Aurelio Trubia. Sono ancora in corso delle trattative interne ai partiti per scegliere il loro rappresentante in Consiglio. Tre, i nomi dei papabili aspiranti presidente che circolano con maggiore frequenza in città, ovvero Ennio Saeva del gruppo del parlamentare Riccardo Gallo, Giuseppe Miciche del nuovo centro-destra di Alfano e Carmelo Settembrino, indipendente ma vicino alle posizioni del Movimento per le Autonomie. Giorno 4, quindi, se i consiglieri riusciranno a trovare un accordo congiunto, si avrà il nome del successore di Trubia.